Lei ha parlato prima, ci ha detto, il cuore del romanzo, proprio il cuore, un trapianto di cuore, col cuore di un giovane. A questi giovani qui, che abbiamo visto in piazza e che adesso anche pagheranno le conseguenze di quello che hanno fatto l'altro giorno, lei che dice? Senta, le ripeto, è chiaro che è un comportamento criminoso addosso alla polizia, eccetera. Però stiamo in un paese in cui se vogliono dare tutte le colpe a loro, stiamo in un paese con una situazione di disagio sociale, giovanile, grandissima. Allora il problema non è tanto quel giovane che è andato a tirare dosassi, perché lei capisce che a soltanto il reato è molto più grave. È la prospettiva e il futuro dei giovani. È molto più grave di chi il futuro dei giovani se l'è mangiato. Questo è un paese in cui il primario di chirurgia, se a lei la opera, il primario di chirurgia a lei non gliel'hanno scelto i chirurghi, gliel'ha scelto la politica. In qualunque ospedale di questo paese, sia a Milano dove comanda Formigoni, o sia a Reggio Emilia, il chirurgo lo sceglie la politica. Possiamo andare avanti a questo modo. In un certo senso, è vero questo. In più, se lei è figlio di loro, riesce a sistemarsi. Può essere che il suo figlio riesca a fare giornalista come in Sky, ma il figlio dell'operaio oggi, non c'è nessuno che lo salva. I giovani che speranza hanno? Questi giovani hanno solo la speranza. Se non cambia il sistema, non solo il governo, non è sufficiente mandare a casa Berlusconi. Dicevo, beh, mandiamo a casa Berlusconi, poi al posto suo ci andiamo noi. No, è il sistema che deve cambiare. E' la mano morta dei partiti che bisogna togliere. Altrimenti non c'è nessuno spazio, c'è l'assoluta compressione sociale, non c'è mobilità. Il figlio dell'operaio oggi non ha più la possibilità. Non ha prospettiva, questo è andato di fare. Allora, lei permette che può fare la stessa maniera. Ragioniamo la stessa maniera. Non ce ne può scendere Di Pietro, dicevo, la legge reale. Intanto Di Pietro, suo figlio l'ha sistemato, gli ha fatto fare la politica. Il figlio dei Bossi, ha bocciato tre volte l'esame di maturità, fa il deputato regionale, è quello che è, ma non può essere. Ma non è una colpa di essere figlio dei Bossi. Ma lei non sente che mio figlio si fa in piazza e si incazza? Eh certo, certo, questo è andato di fare. Però non è ne colpa di essere figlio dei Bossi, ne è colpa di essere figlio di Di Pietro. Allora, non è manco di essere colpa di non essere figlio di nessuno e poi ne cazzi. Tanto più. Non può essere. Allora mi dico una cosa. No, mi dica. Non c'è la democrazia vera in questo Paese. Perché noi non abbiamo scelto nessuno. Questi sono a casta e fanno quello che gli pare. Qual è il futuro? Per loro non... Lei prima l'ha detto. Qual è il futuro? Sono vent'anni che a quello non riescono a processarlo. E a me mi resta ancora più, ma sono fatti reati. Io ho poca voce, Pennacchio, non mi faccio strillare. Però io non dobbiamo parlare del libro. No, ma in questo modo parliamo del libro perché anche il titolo Palude si riferisce a un uomo, ma insomma è la palude delle idee. Esrapato dice che il delinquente vero, Esrapato è un poeta, il delinquente vero non è quello che va a rapinare le banche, ma quello che l'ha fondate le banche. Quello che l'ha fondate. Quello che l'ha... Guardi quello che sta succedendo. Senta, mi dica, io ho ancora 30 secondi. Mi dice, se lei si immagina i prossimi 20 anni, i prossimi 10-20 anni, c'è un movimento buono, democratico, che porterà avanti le indicazioni vere? Io spero che sì, mi auguro... Esiste? C'è questo c'è il seme? Allora, io ho grande fiducia nei giorni. Ecco. Perché sono bravi, comprensivamente. Grande cose. Mio figlio è meglio di me, è più calmo, più pagato, eccetera. Però, se non cambia il sistema politico, l'unica speranza che noi abbiamo è veramente che Francia e Germania facciano il nucleo forte dell'Unione Europea e ci continuino a commissariare, anzi, ci invadessero con le truppe franco-tedesche, perché se no qua noi non ne usciamo.